I consiglieri regionali Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri criticano la gestione dei fondi strutturali da parte della Regione che, secondo i rappresentanti di Forza Italia, metterebbe a repentaglio la sicurezza degli abruzzesi. Febbo e Sospiri, nel corso di una conferenza stampa, hanno analizzato in particolare la gestione delle risorse destinate a frane di sesto idrogeologico dirottate su altri scopi. La giunta d'Alfonso, prima che terminasse questo pessimo governo regionale, prende 10 milioni di euro del dissesto idrogeologico, di un fondo complessivo più ampio e li dà a tua per comprare gli autobus. Nulla contro l'acquisto dei nuovi autobus, ma credo che i soldi per finanziarli non fossero quelli per contenere il rischio delle frane. In passato era stata fatta una gradatoria, questa gradatoria è fatta tramite criteri oggettivi di un sito internet che si chiama Rendis. Avendo tolto 10 milioni di euro e non essendo riusciti a coprire questo buco per i soldi che nel frattempo ulteriori ci aveva assegnato la comunità europea per questo problema, dopo la tragedia nevesisma 2016-2017, ricordiamo tra gli altri di Copiano, oggi noi ci troviamo 11 comuni non finanziati. Riteniamo che questa sia una vera follia, dai responsabili al massimo livello di responsabilità, di gente che gioca sulla programmazione delle risorse. Credo che sia una situazione delicata perché parliamo di frane, parliamo di popolazioni che vengono lasciate nella baria delle onde, interi città, penso a Montesilvano Colli, penso a Rocca San Giovanni, a Manopelli, a tanti altri comuni che hanno la necessità di fare oggi questi interventi prima che arriva la nuova stagione. Poi invece ci sono le necessità delle popolazioni, di tanta gente che rischia la propria abitazione se non la propria vita. Credo che è un modo di amministrare che a noi non piace, lo abbiamo criticato, lo abbiamo condannato in questi mesi e purtroppo, come sempre, i nodi vengono al pettine.